Nella ventisesima giornata del campionato di eccellenza, Girone B la battipagliese impegnata a Palma Campania contro la locale formazione pareggia per 2 a 2, continuando la sua striscia positiva di risultati. Bianconeri sotto alla mezz'ora per mano di una rete dell'ex Adiletta. La formazione di Mister Fusco reagisce e ribalta il risultato, a cavallo tra il primo e secondo tempo, grazie a Munard che trasforma un calcio di rigore al vantaggio siglato da Senatore. Al diciottesimo la rete del definitivo pari di Ammaturo.